Visto che noi siamo una squadra che non costruiamo tanto, sicuramente arriviamo avanti, però non è che abbiamo clamorose occasioni. Stanno arrivando tutte le palle sporche, noi stiamo facendo anche un lavoro differente, aiutiamo anche il centrocampo e la difesa. Dobbiamo dare qualcosa in più sicuramente, però io e i miei attaccanti siamo tranquilli che se continuiamo a lavorare così i gol arrivano. Io mi trovo con Barbuti, diciamo meglio, perché comunque sembriamo che siamo simili, però lui è un po' più statico di me e quindi mi piace più girare vicino all'altro attaccante. Però comunque anche con gli altri non è che mi trovo male. Secondo me è un campionato difficile, tanto tanto difficile, infatti domenica sono fatti pochissimi gol, tanti pareggi 0-0, è un campionato difficilissimo. Noi potevamo avere qualche punticino in più sicuramente, qualche partita la potevamo vincere, però ti ho detto che questo è difficile, questo campionato, ogni partita è equilibrata, sempre 1-0, fino all'ultimo le partite sono sempre aperte. I studi troppo, comunque anche loro arrivano in un momento importante, che stanno anche loro bene. È una partita difficile, perché comunque loro sono una squadra come noi, giovani, giovani. Però noi in casa abbiamo il nostro fortino, abbiamo fatto le nostre due vittorie, abbiamo conquistato in casa. Quindi siamo fiduciosi per la vittoria. Quindi siamo fiduciosi per la vittoria. Vittoria.